Controlli rafforzati anche a San Pietro in Bevagna, Marina di Manduria, in questa settimana di ferragosto. Più sicurezza e prevenzione in giornate difficili per il grande flusso di turisti, più agenti sulle strade in centro città e soprattutto sulle spiagge. Zero tolleranza contro chi trasgredisce le regole sulla balneazione e sulla tutela delle aree riservate, come quella del fiume Chidro, guardato a vista dalle forze dell'ordine. Alcuni bagnanti sono stati già sanzionati dagli agenti della municipale di Manduria con al comando Umberto Manelli, indisciplinati che avevano piazzato la propria postazione con ombrelloni e sdraio proprio nella parte interdetta di una delle sponde del fiume Chidro, invadendo così la zona vietata dall'ordinanza sindacale emanata dal primo cittadino di Manduria, Gregorio Pecoraro. Controlli che si intensificano in questi giorni con la presenza di più pattuglie nella marina di Manduria anche a seguito delle recenti aggressioni avvenute in pieno centro da parte di uno o più gruppi di bulli che hanno picchiato e derubato alcuni turisti arrivati a San Pietro in Bevagna per trascorrere le loro vacanze trasformate poi in un vero e proprio incubo. Grazie.